Dovrà essere demolito presto l'edificio simbolo della montagna Terramanoa, situata sulla S80 al Bivio per i Prati, che un tempo fa sfoggiava la scritta al Gran Sasso d'Italia metri 2912. Una decisione assunta nell'incontro in prefettura convocato ad hoc per trovare una soluzione sul destino dell'immobile, che è in completo stato di abbandono, che costituisce però un pericolo da tempo per chi transita sulla statale. La corsia stradale dinanzi allo stabile è infatti chiusa per motivi di sicurezza e l'ANAS aveva ventilato la possibilità della chiusura della statale 80 se non si fosse arrivato a una risoluzione rapida del problema. Il sindaco di Fanadriano, Adolfo Morriconi, nell'ottobre scorso aveva firmato un'ordinanza in cui vi veniva concesso ai 34 eredi dell'edificio 30 giorni per operare la messa in sicurezza dello stabile privato, ma non ha avuto mai una risposta. La demolizione ora sarà a carico del comune di Fano per una somma che si aggira intorno ai 150.000 euro.